Ancora qualche giorno in Alpeggio siamo alle pendici del Mottarone e poi si torna in pianura con la Transumanza, una vera e propria tradizione e un momento di festa a Nebbiuno. Qui siamo con Paolo e Susanna Tondina e con i loro animali, ma sono diversi gli allevatori che partecipano alla giornata, che domenica 29 ottobre propone un ricco programma nel centro di Nebbiuno sin dalla mattinata. Tre esposizioni di animali e mercatini agricoli e artigianali, giochi e intrattenimenti per i bambini, punti di ristoro, esposizioni di campanacci, una novità, e trattori d'epoca, esibizioni di falconeria, castagnata, attività circensi, ballo country e tanto altro. Una novità è pure la gara dei balloni di fieno in due batterie alle 10.30 e alle 13.30. Domenica pomeriggio il Clou con l'atteso arrivo degli animali in rientro dagli alpeggi che sfileranno per le strade del paese, accolti come di consueto da due ali di folla. Sono tante le persone che ogni anno si ritrovano qui per assistere a questo spettacolo d'altri tempi.